... Signore e signori, buongiorno. La Federazione Italiana del Nuoto vi dà il benvenuto allo Stadio del Nuoto di Roma. È la prima giornata del campionato italiano di categoria di nuoto edizione 2021. Prima di iniziare la manifestazione presentiamo la giuria. I giudici arbitro della manifestazione sono la signora Elena Epifani di Assisi e la signora Daniele Rocchi di Reggio Emilia. Giudici di partenza per il settore femminile la signora Stefania Aliquo di Messina, settore maschile, e la signora Diego Cragnana di Monfalcone. Cogliutore della giuria la signora Fabiana Esposito di Colleferro. Il cronometraggio automatico e manuale è a cura della Federazione Italiana Cronometristi, direttore del servizio, è il signor Carlo Chinappi di Roma. È a disposizione sul piano vasca il medico di servizio, la dottoressa Maria Teresa Livi. Bene, ringraziamo giudici e cronometristi, soprattutto in questa occasione saluto il dottor Slamp e incominciamo a presentare le gare di questa mattina. inizieremo col settore femminile. 400 stile libro junior, a seguire 400 stile libro cadetti, quindi 100 rana junior, 100 rana cadetti, 100 farfalla junior, 100 farfalla cadetti, 200 dorso junior e poi cadetti. Ricordiamo che è stata aggiunta una serie nei 100 rana junior e una serie nei 200 dorso cadetti. Prima gara, 400 stile libro juniores. Ricordiamo che in questa sessione partono le terze e le seconde serie, mentre le prime serie partono direttamente, saranno disputate, cioè questo a pomeriggio, questa sera. Naturalmente la classifica verrà stilata tenendo conto dei tempi di tutte le serie, quindi alla partenza abbiamo la terza serie, 400 stile libro junior femmine. stilata tenendo conto dei tempi di tutte le serie, quindi alla partenza abbiamo la terza e quindi alla partenza abbiamo la terza. Per la partenza abbiamo la terza. Vi faccio. Grazie. 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 Silvia Campanella in corsia 6, dottori Pistoiesi in seconda posizione a tre centesimi da Sara Blasevic. 4, 32, 06 Sara Blasevic, tergesto e nuoto a 4, 32, 06. Attendiamo la conferma dei giudici per tempi e classifiche. Confermati i tempi e classifiche, la partenza, la serie numero due. Ricordiamo agli atleti di rimanere in acqua fino alla partenza della batteria successiva. Ricordiamo agli atleti di rimanere in acqua fino alla partenza della batteria successiva. Ricordiamo agli atleti di rimanere in acqua fino alla partenza della batteria successiva. Ricordiamo agli atleti di rimanere in acqua fino alla partenza della batteria successiva. Ricordiamo agli atleti di rimanere in acqua fino alla partenza della batteria successiva. Ricordiamo agli atleti di rimanere in acqua fino alla partenza della batteria successiva. Ricordiamo agli atleti di rimanere in acqua fino alla partenza della batteria successiva. Ricordiamo agli atleti di rimanere in acqua fino alla partenza della batteria successiva. Ricordiamo agli atleti di rimanere in acqua fino alla partenza della batteria successiva. Ricordiamo agli atleti di rimanere in acqua fino alla partenza della batteria successiva. Grazie a tutti. 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 per vita a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. seconda. convento. a tutti. a tutti. cento. alla partenza. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 tutti. chiediamo.